E siamo tornati da soli Allora, aspetta Allora, il punto è che a me serve la chiave del fabbro Quindi, o adesso iniziamo ad esplorare un po' la zona Oppure, io non so che cavolo devo fare Esploriamo la zona, vediamo Eh, le morti sono 7.917.605 dal giorno dell'uscita Vi ricordate quante poche erano quando avevo fatto vedere il video? Tantissime, sono tantissime Qua si potrà andare Magari sì No Sto provando a vedere se ci fossero Oh, ah no Niente Stavo provando a vedere se ci fossero strade segrete Che magari io non ho visto, però Eh, co, dai Non riesco neanche a parlare Dov'è? Come faccio a prenderlo, quell'oggetto lì? Devo prendere quell'oggetto È la chiave È sicuramente la chiave Ma sicuro Poi voglio sapere come ha fatto ad arrivare lì Ma dai, è quella strada lì Porca miseria Oh, oh, no Merda, merda, merda Si può fare, si può fare Si può fare E un salto fantastico Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Vai, vai, vai Ma seriamente Ma porca troia Un binocolo Ma dai, Cristo Adesso qua come esco? C'è un altro oggetto Mazzachiodata Mettila subito Vai, 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 vai Che bella che è Avevo trovato Ecco questa Campana sacra da chierico Non puoi utilizzare questo oggetto al meglio Sì, ok Ok, ok Ma è bellissima La andiamo a provare subito Amici, subito Sì, ma adesso qua io com'è che scendo? Ah, dalla stessa parte probabilmente Il charpame non è che servirà nel nido del chiurlo Lassù in alto dal tutorial Poi prova a metterglielo Io magari arma sinistra posso mettere Ecco, arma sinistra ci metto il binocolo Minghi e Johnny E quindi, quando lo uso Ah, proprio così Posso guardare il sole Ma guardate com'è poetico Dark Souls 2 Allora, ho finito di perdere tempo E andiamo magari a fare qualcosa Dai, ho la mazzachiodata Assai Mi cucco questo E vediamo la mazzachiodata Pam, pam Gemma vitale, ma subito proprio Subito Venga qua Te, sei la mia nuova amica Andiamo a riposare a questo falò Così saremo qua vicino subito Se moriamo Ma aspetta, ma io Che cazzo sto facendo? Perché mi sto facendo tutta la strada? Io posso viaggiare Yeah, viaggiare! Eccoci qua Mi sparerei un'effigia umana Ora siamo umani Con la vita piena No, non piena Con la vita piena E quindi possiamo decidere di fare qualcosa E a sto punto mi sa che andiamo proprio dalla lucertolona Andiamo Camise... No, va più giù Molto più giù Ah Ok, la nebbia Bastardo C'è un simbolo di evocazione laggiù Lo vedo Lo vedo simbolo di evocazione Detro il tizio No Ah, sì, sì, sì No, porca troia Mi aveva mancato Dai, mi aveva mancato Mi aveva mancato Cazzo Cos'è successo? E muore Questa porta qui È chiusa Ma che porca... Pate il morigerato Eccolo il mio amico E allora anche lui Tocco a... Luet il mercenario Che bello Che grosso che è però Porca miseria se è grosso E ora andiamo Nebbia È boss sicuro 99 su 100 Boss Ecco, lo sapevo Wow, wow, wow Subito, mi carica così Wow, wow, wow Spè, spè, spè Ah, ma devo colpirli le gambe Le gambe devo colpirli Spè, spè Uè Uè Madonna Colpiteglielo, colpiteglio Porca miseria se toglie No, dai Ero lontanissimo Merda No, via Adesso fa l'attacco No, no, no L'ho scansato L'ho scansato Cazzo Ho solo la benedizione divina Mi serve una benedizione divina Sì Eh, sì Vabbè Vabbè Salta pure Dai, dai Via, via Che non vedo cosa sta facendo No, si è staccato un braccio Adesso mi randella col braccio Mira Oh, va se va lontano però No, l'ha schiacciato proprio Rialza quello E picchia questo No No Ma porca Eva Ma dai Che stavamo andando abbastanza bene Perché non ho usato L'affare Lì La boccetta Ma Cacchio Tocco lui E tocco lui Che è anche brutto da dire Mo' andiamo Dai, subito così Mi ha colpito Non ci credo No Madonna È lenta È lenta questa mazza Eh, metto il binocolo Metto questo, dai Che è un pochino più veloce Magari riesco a fargli Qualche danno in più Porca miseria Oh, l'ho scansato L'ho scansato L'ho scansato Dai Via Ok E si è tolto il braccio E si è tolto il braccio Ora so cazzi Non la uso ancora la fiaschetta Dovrei riuscirci No La spada La fanteria Porca merda Ma che attacco era Cazzo Bevi 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 Uno è stato sconfitto Oggetto rotto Perfetto Dai Che è morto Dai Oh Vittoria Sì Vittoria Ultimo gigante Inutile più avanti No Dai Non dimmi che è tutto così Io speravo che uccidendo il boss Poi qua ci fosse qualcosa Però mi ha dato una chiave prima Ho visto una chiave È chiuso Quindi non è la chiave di questa porta qua Andiamo un attimo a parlare con la gigia La magiula No Non mi dice niente Però posso avanzare di livello Uno a tempra Così almeno l'energia la portiamo ancora un po' più su E poi direi di aumentare forza Alzo la destrezza Perché sono quelle Sono quelle Quelle armi che non riesco a usare Però Ho quest'arma rotta Che era quella potente Tra l'altro Anima ultimo gigante Acquisisci numerose anime O forse puntini puntini Ok ho capito La tengo Ah io aspetta C'ho tutte queste anime qui però Eh si sale ancora di livello Allora Quindi avevamo detto Una destrezza sicuro A sto punto una vitalità Dai Lo metto lì alla destrezza Via Andiamo Mentre stavo Guardando un attimo Nei menu Per capirci qualcosina di più Sulle armi Che avevo in mio possesso E vedo questo Durata attuale Durata massima Giunta a zero Oggetto si rompe Diventa inefficace La durata si ripristina Riposando a un falò Ma perché queste cose Non me le dicono subito? Questa qui è 45-45 Che però Non posso usarla Spezza corazze Ah è vero Vediamo se adesso si può usare Oh Ora la posso usare Ma allora a sto punto 575 Bene 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 Devo dire Proviamo adesso Ad andare a vedere Visto che ho la labarda E posso colpire Anche da lontano Se riesco a rompere le palle Ai simil soleir bianchi Venga qua E No Bastardo Ce l'ho fatta Oh Ce l'ho fatta Non so quanto mi abbia dato Non ho visto Ma ce l'ho fatta Allora Cosa ho visto Laggiù Come faccio a raggiungerlo Allora Devo correre La scala Lungo la scala Eh mi Mi ha già visto Merda Merda No 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 Che voli di sotto Scemo Vai Corri 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 Accendilo Vai 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 Riposati riposati Presto Oh La Represse zombie No non credo che sia uno del gioco E tra l'altro sicuramente Non me lo farà evocare Evocato fantasma Ma sì Ha funzionato Ma allora sì Voglio salutarlo subito Ciao amico mio Madonna Sei potente Ah ma non è che sono andando forti questi però Pensavo fossero molto più potenti Vai colpiscilo Grande E io lo colpisco così Bam Vai vai giù Vai giù In due siamo potentissimi Signori E un altro colpo Oh E L'ultimo è il mio Ok mi sono fatto anche un po' di male E anzi Mi sparerei una fialetta Qua cos'è? Cos'è? Cosa succede? Oh Aumenta l'arena Oh Sì 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 Ah uno Mi è arrivata l'anima dell'altro Aiutami Porca miseria E Babam Va giù Perfetto Qua se ne alza un'altra? No Ok Quindi adesso proviamo ad andare di qua No perché si alzano subito però? Stavolta No 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 Non è buona questa cosa Non è buona Non è buona per niente Dai Via Fuh cosa sono riuscito a fare? Dai dai Ok c'è morto Ora manca questo Ed è andato Giù La potenza signori E' morto Ma porca troia In che guaio mi son cacciato? Sì Esatto Uh 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 Bastardo 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 Merda Guarda quanta poca vita ha E ci stai Oh Ma qua che bello Ma il cielo poi E' fighissimo Cos'è quella Quella torre lì? Io non so Nooo Merda Si è svegliato? No 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 E lo sapevo Madonna cosa sono riuscito a fare? Via Ok Non è la strada giusta La strada giusta è molto lontano da lui Sicuro Facciamo così Torniamo indietro e aumentiamo di livello E tanto adesso c'è il falò subito Questo non l'avevo visto Opla Dovremmo essere arrivati al massimo Ottenibile 7 e 18 Ci sto Così posso usare La Quella lancia E invece questa fa 75 più 120 E posso usarla Oh yes Uh evocata ombra di Benny Marty Perfetto E dovrebbe partire poi anche l'altro tra poco Grande Perfetto Perfetto Perché è già mezzo morto lui? Beh Beh Però loro ci sa Loro minchia se ci danno Porca miseria Dai No è già mezzo rotto sto coso Minchia non vale un cazzo Come perché è tornato nel suo mondo? No bastardo Speriamo che ci siano di nuovo gli altri fantasmi Cosa vuol dire prova nano? Salutiamolo Non c'è più nessuno Vai tra Gli ho uccisi tutti da solo Vai tranquillo C'è un altro simbolo di evocazione qui Pam pam Evocato Ma qua c'è un altro anche Il senza padrone Eh dai evochiamoli tutti Tanto Ormai Uh per poco volo di sotto No Hai volato lui giù di sotto Ce la fa lui? Lui ce la fa È un grande Grande Grandissimo Non spingermi Non spingermi Raccogli l'oggetto Anello del vincolo Non so cosa sia Probabilmente è Il matrimonio Anello del vincolo Limita la riduzione di pv Da essere vuoto Ah bello Lo metto Andiamo io e te Che sicuramente ce la faremo Via Eccolo Vai vai Grande Grandissimo Ma è meglio usare l'alabarda Ma forse No troppo Troppo Poh Merda E ci arrivo io Ci arrivo io No merda Mi ha colpito No 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 Non guardare me Non guardare me Colpiscilo Aiutami Grande Te Così Perché bevi Abbiamo vinto Mi sa che te ne tornerai a casa Oh dai 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 Che ce l'abbiamo fatta Sono felice Yeah Credo di stare citando Facendo così Perché Evocando la gente Si ha lodato al sole Eeeh Ma non posso lodarlo Vabbè Faccio così Yeah Secondo me adesso trovo Trovo gente Il falò Parapapapa Chi è? Lo spavento Tra l'altro Non so cosa serva Questa roba qua Mi sa che sono tutte cose Che mi serve Eh infatti Vedo laggi in fondo Che mi serve Un qualcosa a 12 Penso sia la fede E io ovviamente Non ce l'ho No sono agnostico di qua dove si andrà che poi io madonna se è buio qua non vedrete nulla neanche voi mi sa porta fortuna del monastero e tra poco guardo un attimo cos'è sto porta fortuna del monastero quindi proseguiamo aspetta prima di proseguire guardiamo cos'è sto porta fortuna del monastero cura l'avvelenamento e ripristina i punti vita ah ok quindi avvelenamento mi sa che adesso troverò dei ragni giganti grazie